Iscriviti al canale! Galli ha i tag giusti abbiamo Mi piace Galli con questi tag Eh, sarebbero i suoi Sì Qual è la tua canzone preferita dei Mane Skin? Sì Ma che boia A me piace un Mane Skin in generale Stai andando bene Ai tasti puri Cominciano ad andare giù Ho iniziato da me a dare questa partita queste cose Molto male Andiamo Anomalia sì Anomalia no Team Anomalia sì o Team Anomalia no? No Team level up e non lo è che Team no Continua così, forza No Poi non dite che non vi ascolto eh Team 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 serve davvero? budi non ci ascolti? ma cosa non vi ascolto? vi ascolto troppo piuttosto è che il level up mi fa schifo però purtroppo era così giusto questo turno il level up però ci sai fare sempre meglio avere qualche servitore da giocare le probabilità sono al mio favore giulia ha appena tirato un ultrassuono lo prendo che lui ha livellato in realtà e quindi magari posso questo questo piccolo vantaggio mi fa vincere il fire non c'è uguale per il monte però buttare via la hana così è immorale e ho capito attegnate la presa buonissima ma non ci sai fare che brutto avrà stare a me ne arrivano 15 ma non ci posso fare niente come è Ragnaros? è pessimo me ne arrivano 15 ho appena vissuto una lobby di Marte T9 sono morto ed è rimasta la top 3 io qua pure te opposto ho messo malissimo perché ho beccato lei nel turno in cui diventa forte che lei ha tirato gatto T1 quindi ha fatto due triple ora non so se la fate due a cinque o ne ha fatte qualcuno a stai vedete che o al cinque o al tre insomma 15 o non 15 18-21 ma la bolla è suicidata è interessante la bolla suicida lui se potrebbe prendere lui no questo shop è la chiave porco cane deve prenderlo da due che fa tema sta mica insinuando che mi servano delle triple quale motivo pensi che mi servano delle triple quale motivo pensi che mi servano delle triple i pesci sono unici in un cibo una scarica al cuore sono un coglione sono un coglione vabbè ho tirascinato e mi è rimasta in mano la caetta mi è andata bene che non era questa spero ci sai fare qui sono un coglione meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Bella scelta, molto tattica. Odio allenare le gambe! Cento conchiglie, cingolo le chiglie, cingolo le chiglie. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Mi piace il tuo modo di pensare. Più o meno. Palle bellissime. Buono. Ah, guardate qui. E' stato di osso lui eh. Perché ha taiblato e ha trovato un pezzo buono. Ho delle reclute fresche fresche per te. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Odio allenare le gambe! Sì, per favore! Ah, guardate qui, sono un pezzo. Sì, per favore! non è più grande di 28-28 Pizza Continua così Forza Infantulite Ficchia Ficchia E poi tante non subire Undici pizze no Non nemmeno è tope ma mia Anche io avrei scelto quello Sono bici Sì Il mare è pieno di peschia Non nemmeno è che lei C'è più uno prender Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il discorso Volete fare a poter Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo Ho chiuso il tracker Sto un po' laggare 20 dai 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 E' una volta la vorrei incontrare io Sapete Si gioca bestie Ho proprio pericolo Cos'è XQN qui? Che taverna sei? Vedete che volo che faccio Con te Non credo di voler livellare Ok Eeeh No Sì Sì Rivelliamo Devo livellare peggio Sì Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Bella scelta Molto tattica Quindi ci sono stati Beppe and Mi piace il tuo modo di pensare Mi sento Brilla Volete fare a botte? Il mio scudo Per armi Volete fare a botte? Non so Potevo fare anche di meglio Probabilmente Però Aveva forte abbastanza Ah no Ma non c'è Ma stai Un scondimentale Non lo metto Ecco Ma è ovunque Fa Un scondimentale A A Meglio assoldare una recluta finchè puoi farlo. Comunque doveva prendere la set. Non credo di prendere il zap. Non sta laggando, è un'impressione vostra. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il discorso. Un codice dei pirati, un codice dei pirati. A voi canagli serve qualcosa? Assolda pure una di queste reclute. Un servitore in meno, una moneta d'ori. Un servitore in meno. 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 Una moneta d'oro in più. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Anche io avrei scelto quello. Un servitore in meno. 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 A piedi? Non prenderò lui, è di nuovo troppo lento Il turno è stato abbastanza amaro Non lo prendo 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 Contro le veste Contro le veste è sicuramente inutile Contro gli elementari molto fight Si hanno fatto fight con questo fight Non lo prendo Ma perchè io ho Eliza in campo? Ma perchè io ho Eliza in campo? Ok, avventa gli elementari Quindi dipono lui Stogli Il turno dopo Il turno dopo Un piazza pulito Moriamo il Vatelan Servita bene Quello potrebbe fare la differenza mic säga Oh, 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 oh. Bella scelta, molto tattica Solo una smissa Assolda pure una di queste record Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Basta da A, non lo so Non pessimi, peggio I due levai son fotti C'è chi va, c'è chi va C'è chi va Non so con che chiude Chiudo con set Perché volete che io giochi type plus up? Ne volete un quattro? Ve lo prendo, eh? Is that the type of people are hit? Ok Assolda pure una di queste reclute Ti stanno puntando tutti Fa' attenzione Volevi con quel gulpezzo di fang Guarda Zapp, guardate Zapp Outplayato proprio Che culo però che c'hai Johnny Ah, che culo ha avuto Che si è salvato la vita Dai, è vergognoso Che palle devo ancora giocare Che palle Penso a Zapp Beh, non è solo Che palle Sono vinto Che palle Dai, scudodino a Zapp Mi piace Oh Una corona Tenga di me Una corona Tenga di me Anch'io avrei scelto quello Un servitore in meno Una moneta d'ori Ehi, stai davvero creando una grande armata Moriamo il bottino Qualcosa ho mentito Stai davvero creando una grande armata Scusa Scusami, io non so Stai davvero creando una grande armata Ehi, l'eroe Che sto chiappetore Attenzione Io ho due pezzi Lui uno Avevo vinto L'avremmo fatta vince mi ha counterato zappo contro la golden ha tolto lì eroi per mettere golden e 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